Dopo tre anni in prima linea, il primo aprile è scaduto il contratto per i medici dell'ex USCA, le unità speciali di continuità assistenziale trasformate poi in UCA per i 200 medici che durante l'emergenza Covid hanno prestato la loro attività in tutto il percorso di Covid e post-Covid. Dopo l'incontro tra i vertici della funzione pubblica CGL di Salerno e il direttore generale dell'Asla Gennaro Sosto, dove sono stati presi impegni precisi sui medici ex UCA ed ex USCA, con la predisposizione di due appositi bandi per il loro impiego nei pronto soccorso e sul territorio, continua la mobilitazione della funzione pubblica CGL salernitana a tutela di centinaia di medici impegnati dall'aprile del 2020 nell'emergenza Covid, ma che il primo aprile però non si sono visti rinnovare il contratto di convenzione con l'Asla di Salerno. E proprio a pochi giorni dalla scadenza del contratto, il segretario italiano dei giovani medici della sezione di Salerno, dottor Mario Passaro, ha incontrato il direttore sanitario dell'Asla di Salerno, Primo Sergianni. L'Asla ha intenzione di continuare la collaborazione con i professionisti che finora hanno lavorato durante tutto il periodo emergenziale e dunque il DS ha invitato tutti i medici in scadenza di contratto ad iscriversi al bando per continuare la collaborazione per attività sul territorio che verranno organizzate in base alle necessità dei vari distretti. Una vera e propria beffa per Antonio Capezzuto, segretario generale della funzione pubblica della CGL di Salerno. Nonostante i medici siano stati protagonisti di un'opera indispensabile e preziosa dal punto di vista della sicurezza sanitaria e sociale, coprendo le falle di una medicina territoriale assente e non pronta a gestire un'emergenza sanitaria senza precedenti. I medici ex USCA, che hanno rischiato la vita dal primo giorno di emergenza Covid, oggi vivono invece il paradosso di essere stati completamente dimenticati dalla politica e da quanti in questi tre anni hanno applaudito al loro immenso lavoro. Chiediamo alla direzione strategica, agli uffici predisposti di accelerare dunque il processo di reclutamento avviato con due bandi predisposti a marzo. Chiediamo al direttore generale dell'ASL Sosto di mantenere gli impegni presi con l'avvio del corso abilitante per l'emergenza territoriale entro aprile, così da dare delle prime risposte ai medici ex USCA. Bisogna velocizzare il cronoprogramma per l'apertura delle case di comunità, per garantire servizi più puntuali ai cittadini, occupazione stabile per i medici, così in una nota Antonio Capezzuto, segretario generale della Funzione pubblica della CGL di Salerno.